Tempio della Fraternità di Cella Un'idea, un sogno, una realtà In pochi allora ci credevano Non certamente gli abitanti E tantomeno quel giovane sacerdote Don Adamo a Cosa Che aveva la necessità, mai me senza mezzi Di ricostruire la chiesa alla quale era stato destinato Ma da quel 7 settembre 1952 Giorno nel quale fu posta la prima pietra Al 20 settembre del 58 Giorno dell'inaugurazione Sempre più il Tempio divenne emblema di pace e fratellanza In seguito fu adottato da tanti corpi militari Italiani e stranieri Così che col simbolo di pace nascosto sui monti Tra la Lombardia e il Piemonte Venne sempre più citato e ricordato Interessando spesso anche i mezzi di informazione Più disparati Nelle scorse settimane Una troupe dell'emittente TV2000 È giunta da Roma per registrare uno speciale Che è in programmazione in seconda serata Giovedì 25 febbraio Sabato 27 in replica alle ore 12 E su Youtube Nella rubrica Indagine ai confini del sacro Abbiamo seguito alcune fasi delle riprese Durante le quali sono stati intervistati alcuni abitanti E anche un insegnante dell'ex scuola elementare Anna Maria Sasso Che ha conosciuto e collaborato in varie iniziative Con Don Adamo Anche i ristoranti che sono arrivati Prima era solo un'osteria Come c'era Castellaro Anche Castellaro Che aveva un'altra relazione qua vicino Ha avuto beneficio dal fatto Che Don Adamo Avesse costruito questa chiesa Qual è il motivo di questo interessamento Di TV2000 Per il Tempio della Fraternità di Cella Ho scoperto questo Tempio grazie al veggente cieco A Fraternità di Ave Maria Che è qui vicino Ho fatto un reportage su di lui Una persona mi ha contattato Dopo aver visto il reportage E mi ha parlato di questo Tempio Quando ho visto le immagini Ho deciso subito di venire qui Cosa l'ha colpita di questo Tempio? Le voci che ho sentito entrando in questo Tempio Voci delle persone che testimoniano il dolore Ma anche la speranza di aver vissuto la tragica guerra La seconda guerra mondiale A parte il Cristo fatto con tutte le parti delle armi Dei cucini, delle baionette del tempo Mi hanno colpito gli altri strumenti di morte Vere, strumenti veri, autentici Che qua cambiano e diventano testimonianza Di quello che non dovrebbe più accadere E che speriamo che non accada più Come ha trovato Cella di Varsi? Io vengo da Roma E siamo arrivati qui con un po' di maltempo E ci siamo svegliati con due metri di neve Per noi la neve, per chi vive a Roma La neve è magia Vivete in un paradiso E trovo che sia veramente un gran bel posto Casualmente in visita al Tempio Anche padre Tiziano Sterli Decano cappellano militare Dall'arma dei carabinieri della Lombardia Partire da queste realtà di guerra E la guerra è sempre il punto più basso Siamo proprio alla miseria dell'uomo E da lì, ecco, quasi far partire una preghiera Verso l'alto affinché la miseria dell'uomo Sia superata dalla grandezza Dalla bontà di Dio Sia superata dalla grandezza Grazie a tutti.